Torna il Festival delle Ville Vesuviane che sarà in programma dal 7 al 30 luglio nelle splendide Ville Vesuviane del XVIII secolo. Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano sono al centro del festival giunto alla sua 34esima edizione, promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane presieduta da Gennaro Miranda con il contributo della Regione Campania e del Ministero della Cultura. Sarà proprio il Ministro Gennaro San Giuliano ad aprire le danze nella giornata inaugurale del 7 luglio che vedrà la fanfara diretta dal maestro Nicola Cotugno calcare il palco di Villa Campolieta ed Ercolano. Sentiamo il sindaco Ciro Buonaiuto. Il Festival delle Ville Vesuviane è importante per una città come Ercolano che vuole affidare il futuro dei loro figli al turismo, alla cultura, alla legalità. Sono orgoglioso che anche quest'anno il festival sarà un attrattore straordinario per la nostra città. La finalità resta raccontare la storia di questi luoghi, farne rivivere l'essenza e sorprendere. Lo spettatore unendo il fascino delle performance artistiche alla struggente bellezza delle Ville Vesuviane del XVIII secolo. Ai nostri microfoni il Presidente della Fondazione Ville Vesuviane Gennaro Miranda e Luciano Schifone, consigliere del Ministero della Cultura. Il festival si inaugurerà con uno spettacolo sul tema Ville Vesuviane tra cultura e identità. Quindi il 7 luglio il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano inaugurerà il festival. Questa fondazione in particolare tende a valorizzare e a mettere in evidenza non soltanto l'opera di restauro, di recupero delle Ville Vesuviane ma una fruizione che restituisca al territorio la bellezza e il patrimonio culturale di queste Ville. Grazie.